Ho una tomba pronta per il maestro. Vorrei prendere il suo corpo. Puoi prenderlo. Perdonaci, stiamo seguendo il corpo del nostro Signore. Sarete sempre benvenuti. Ma vi prego, adesso usciamo dal sepolcro. Non riesco a credere che non rivedremo più Gesù. Un momento. Ricordate quello che Gesù ha detto riguardo alla sua morte? Cosa ha detto? Sì, lo ricordo bene. Gesù ha detto che trascorse i tre giorni lui sarebbe risuscitato. Non c'è luce ancora, buio il giorno e tu, donna, arrivo la strada a vai. Porti a roni a un sepolcro, ma per chi? Perché tu di cosa cercherai? Ora sei davanti a quella pietra e tremante guardi un po' più in là. Cosa cerchi, donna, non lo sai, il vivente non è più qui fra i morti. Non devi piangere, donna, perché è risorto e non lo rivedrai. Cosa cerchi, donna, non lo sai, il vivente non è più qui fra i morti. Non devi piangere, donna, perché è risorto e non lo rivedrai. Non devi piangere, donna, perché è risorto e non lo rivedrai. Voi sapete dove il mio signore, l'ho cercato ma non è più qua. E se avete voi portato via il suo corpo, presto ditemi dove? Così via con me lo prenderò, di profumi lo ricoprirò. E guardando il suo viso piangerò, il suo amore io riconterò. Cosa cerchi, donna, non lo sai, il vivente non è più qui fra i morti. Non devi piangere, donna, perché è risorto e non lo rivedrai. Cosa cerchi, donna, non lo sai, il vivente non è più qui fra i morti. Non devi piangere, donna, perché è risorto e non lo rivedrai. Donna gioisce, vive risorto, presto corri e gridalo al mondo. La vera del po' sarebbe risorto, alleluia per sempre vivrà. La vera del po' sarebbe risorto, alleluia per sempre vivrà. Grazie a tutti